e la costruzione del brigantino. Qui è il trasporto dei prodotti, dei colli, della campagna, mozzarella, arance, alcun genere, anche muglianti vitelle addirittura, dice che spingevano avanti queste muglianti vitelle perché la grande vitella era famosa a Napoli e quindi qui si vede l'affaccentarsi dei contadini, dei trasportatori all'Alfa. Qui tu volevi leggere qualcosa su Scrive, scrive, scrive Lauria, correvano allora tempi assai prosperi per la Marina di Sorrento la quale superava di navia in tonnellaggio tutte le altre del Mediterraneo e dà un preciso riferimento cronologico, 3 aprile 1809. Siamo dunque nel periodo del brigno di Gioacchino Miorano e per la verità non correvano tempi assai grossi per i commerci, per varie motivi, perché